Oroscopo del giorno. Domenica, 7 aprile, 2019. Ariete. Amore. Lavoro. 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 Solo se ci sono le condizioni. Lavoro. 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 Con il favore degli astri, non sarà difficile occupare posizioni di primo piano, anche perché, potete dare il meglio. Scorpione. Amore. Amore. I pianeti, saranno pronti a difendere il settore sentimentale dello scorpione. Oggi ci saranno tanti momenti teneri, e romantici. Lavoro. I single, avranno tanta voglia di cambiare alcuni aspetti della loro vita, per stare più sereni. In arrivo nuovi incontri. Lavoro. Qualche dubbio a livello professionale vi tormenta, ma ancora è presto per prendere ulteriori decisioni. Sagittario. Amore. Non è il momento buono per esporvi troppo, anche in amore, potreste aver preso le distanze, da qualcuno che vi ha deluso. Per le coppie stabili, lintesa è invece molto buona. Per i single che vogliono innamorarsi, si prospettano incontri interessanti, da non sfuggire. Lavoro. Nella sfera professionale potrà esserci qualche tensione, meglio essere cauti con le parole, ed evitare incomprensioni. Capricorno. Amore. Grande giornata per il segno del capricorno. Le stelle favorevoli vi rendono ottimisti, e potranno esserci grandi slanci in coppia. Lavoro. È un momento interessante anche per i single, che devono prendere decisioni, che riguardano faccende private, e familiari. Lavoro. È il momento dei progetti ambiziosi, in questa fase, siete in grado di elaborare piani, davvero straordinari. Acquario. Amore. Evitate le polemiche, e le critiche, il partner potrebbe risentirsi delle vostre osservazioni. Siate anche meno rigidi con voi stessi, e concedetevi una pausa per riflettere. La luna non è più allopposizione, e i single potranno avvicinarsi ad una persona. Lavoro. Siete in costante miglioramento nella sfera lavorativa, sono in arrivo risultati ancora più sorprendenti. Pesci. Amore. Se avete chiuso delle relazioni, o avete preso decisioni risolutive, ora potreste ritornare sui vostri passi. È un periodo interessante per risolvere problemi in sospeso, soprattutto di natura sentimentale. I single potranno avere a che fare con un ex, che torna ad ossessionarli. Lavoro. Potranno presentarsi delle difficoltà, dal punto di vista economico, ma la vostra situazione lavorativa sta migliorando. Stop. . Se il video ti è piaciuto metti mi piace, e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. .